Salve colleghi, Vincent Pignatell mi ha chiesto come capitano storico dell'Ordine degli Avvocati di Roma di mandare un messaggio di speranza, un messaggio positivo a tutti i colleghi che partecipano alle nostre competizioni sportive. Io spero che gli avvocati di tutto il mondo stiano bene e che si siano presi cura dei propri assistiti, delle proprie famiglie, dei propri figli. Ci saremmo dovuti incontrare, come capita ogni due anni, al Mundiavogat del 2020 a Marrakesh. Purtroppo il Covid-19 ce l'ha impedito. Come sapete però, l'organizzazione del CSO ha previsto un differimento del Mundiavogat al prossimo anno, al 22 maggio del 2021. Ecco, l'Ordine degli Avvocati di Roma. Gli Avvocati di Roma sono pronti a difendere il proprio titolo di campioni del mondo al prossimo Mundiavogat 2021. Con lo stesso spirito di fratellanza e di sportività che ci ha sempre contraddistinto. Sappiate che però l'unico punto che ci accomuna a tutti è uno e uno soltanto, il principio della colleganza. Noi saremo lì pronti sia per perdere ma soprattutto per vincere, perché noi giochiamo per vincere come sempre. Non ho mai conosciuto un Avvocato che gioca per perdere. E quindi noi saremo lì. L'Ordine degli Avvocati di Roma sarà lì con tutte le proprie formazioni, pronta a sfidarvi il 22 maggio del 2021. E ricordatevi, staremo pronti lì per urlare come sempre E' GOLLE! Ci vediamo a Marrakesh, il 22 maggio del 2021, al ventesimo Mundiavogat. Ci vediamo lì.